buongiorno e bentornati sul canale oggi ho deciso di girare un video haul in quanto ho fatto degli acquisti su amazon e quindi di conseguenza ve li volevo far vedere ora non vi dirò i prezzi nel video ma ve li faccio scorrere qui sopra all'interno appunto del video stesso in quanto in questo momento non ho non me li ricordo però comunque ve li faccio scorrere quindi se mary sta guardando questo video tesoro non lo sto dicendo ma scorreranno qui nell'immagine lei sa perché ho detto questo vabbè dettagli allora su amazon ho comperato questa bellissima palette della valumakers e io non sapevo dell'esistenza di questa marca e non la conoscevo eh perdonatemi magari se voi la conoscete lasciatemi qui sotto un commentino insomma ditemi un po' voi mi è arrivata imballata in questo modo guardate come sono stata brava ancora non l'ho neanche swatchata sono stata proprio forte all'interno del pluriboll o mille bolle chiamatelo come volete la confezione si presenta in questo modo dietro è nera si apre così e all'interno troviamo una plastichina di protezione e tutti questi bellissimi colori ragazzi guardate cosa sono allora qui possiamo trovare dei matt dei shimmer bellissimi guardate vi faccio una carrellata veloce spero che le luci riescano a riprenderla bene perché veramente è pazzesca merita avevo pensato di fare un video makeup utilizzando semplicemente soltanto questa fatemi sapere qui sotto con un commentino cosa ne pensate se la cosa vi può interessare io ve lo registro molto volentieri ok poi vediamo un po' come secondo acquisto la cosa più strana la lascio per ultimo questi bellissimi pennelli oh mio dio sono meravigliosi guardate quanto sono belli no vabbè ve li apro tutti perché sono meravigliosi allora prima è questo no ma poi sono di una morbidezza wow e è fatto in questo modo non ricordo sinceramente la marca di questi prodotti comunque ragazzi vi lascio tutto qui sopra in sovraimpressione mi sembra un po' una televenditrice comunque vi lascio tutto qui sopra all'interno dello schermo quindi oltre ad ascoltare il video guardatelo così almeno vedete cosa cacchiero la sto dicendo quindi allora dicevamo questo 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 poi c'è questo che è quello più strambo e più strano di tutti in quanto è fatto a in questo modo qui vedete al triangolino è fighissimo poi c'è questo ma guarda quanto sono belli sono bianchi e hanno delle alla base rosa e qui sopra tipo panna cioè sono proprio strani questi invece sono tutti bianchi questo alla base è giallo e qui sopra bianco quello che diciamo è stato il motivo del mio acquisto e poi sono oro argento questi tre sono argento guardate vi faccio vedere allora questi tre sono argentati e sono praticamente questo è da sfumatura tipo semi penna questo è da sfumatura ampia e questo invece da precisione angolare da eyeliner direi poi ci sono questi due invece che credo siano blush e contouring che è il motivo per il quale ho comprato questo set e questo pennello anche se poi mi piacciono anche tutti gli altri e questi sono diciamo la ramato questa parte è ramata e questo invece questa parte è dorata e penso che sia cipria e se non sbaglio correttore in quanto penso che sia idoneo a questa funzione ecco adesso non volevo sporcarlo perché sono truccata e bene anche questi pennelli sono fantastici e vi lascio sempre qui sopra impressione il costo per ultimo ma non per importanza questa parrucca bellissima della fantastica stupenda adesso ve la faccio vedere non ve l'ho fatto vedere indosso perché la allora all'interno troviamo due calzini per poterla io chiaramente l'ho provata per poterla indossare se si ha i capelli lunghi insomma e poi all'interno c'è la parrucca avvolta da questa plastichina adesso ve la tiro fuori guardate quanto è bella cioè è meravigliosa meravigliosa questa marca di parrucche me l'ha consigliata il mio amico californian cream che trovate qui sul tubo e se non sbaglio lui ha preso la stessa parrucca cioè è veramente bella 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 e niente ragazzi ecco questo è il mio piccolo video video se siete curiosi di sapere cosa ho indossato sulle labbra è questa bellissima tinta labbra della revolution limited edition del set di tre tinte labbra faccio vedere se siete curiosi e lasciatemi qui sotto un commentino se vi interessa una review appunto dedicata solo a queste tre tinte labbra così almeno ve la giro e insomma ditemi le vostre impressioni se il video vi è piaciuto se vi ha tenuto un pizzico di compagnia se vi è potuto essere utile divertente insomma come volete lasciate un like condividete se non siete iscritti al canale iscrivetevi e per essere sempre con me aggiornati in qualunque momento seguitemi sui social facebook instagram e google più e attivate qui sotto la campanellina delle notifiche così che ogni volta che io carico un video vi vibrerà o suonerà tutto il telefono bene ragazzi vi mando un grande bacio e come al mio solito bisous mon coeur